Il festival ha sempre guardato per posto il suo sguardo oltre confine tutto ciò che succedeva nella danza che succede nel panorama internazionale, ma altrettanto ha fatto e sta facendo per quello che riguarda il panorama nazionale. Non si è mai dimenticato degli artisti marchigiani del territorio, questo fin dall'inizio, l'anno prossimo, penso che non voglio fare l'inticitazione, ma l'anno prossimo sarà la ricorrenza dei 600 anni di Guglielmo e Greve, credo che il nostro festival assolutamente non potrà tacere e ignorare un evento così importante per la città di Pesaro. Guglielmo e Greve, a lui si vede il più antico manoscritto di coreografia esistente nel mondo. Il mio lavoro è il risultato di un laboratorio, un laboratorio di ricerca che ha durato più di un anno e che ha coinvolto persone, dico persone perché il mio gruppo è formato da ragazzi, parte da una ragazza di 18 anni fino ai 50, quindi estremamente eterogeneo ed è stato appunto un laboratorio di ricerca sull'Alzheimer, che è durato più di un anno, perché io, come ha detto già Antonio, sono anche l'anziterapeuta, lavoro da diversi anni con l'Alzheimer e ho voluto coinvolgere questi allievi nella ricerca e nell'elaborazione di quello che può essere appunto questa, l'avvicinarsi a questa malattia. Penso che comunque anche loro debbano essere chiamati danzatori, perché la danza è anche il movimento di una mano e io ho visto danzare i miei malati di Alzheimer, le persone con cui lavoro. La sera del 28 appunto presenterò un lavoro, uno è ispirato alla figura di Giovanna d'Arco, l'altro invece è un duetto che ha in scena un'enorme quantità di materiale scenografico, ma non svelo di più. La sera invece del 29 appunto il progetto IEM prevede la collaborazione di più artisti. Sarà in scena una scultura e quindi per me la difficoltà è lavorare con un oggetto scenografico che al tempo stesso è un'opera d'arte, quindi come si relaziona il corpo con questa duplice veste dell'oggetto è molto particolare. Ci sarà un musicista che appunto creerà delle sonorità live, sia in ambito di musica elettronica che in ambito più tradizionale perché avrà un assetto particolare con la batteria e altre percussioni. La cosa che credo sia veramente stimolante e lo dico dalla parte appunto di chi si mette a creare un'opera che sia danza che sia qualunque altra cosa è che la tua opera non rimane chiusa, confezionata e poi la doni in qualche modo, ma possa avere questo momento di scambio in cui il pubblico può dire la sua in modo molto semplice perché alla fine l'artista è anche un artigiano. L'elemento di fursi sempre in termini di crescita e di ampliamento della propria attività ovviamente poi porta al risultato di oggi, è un lavoro personale e collettivo molto importante. L'altro elemento è quello di avere contribuito fortemente a ridare, cioè a dare una nuova anima, una nuova visione di funzione alla Chiesa della Natalina. Sono cento gli artisti che vengono coinvolti, che fanno un riferimento poi a sette nazioni differenti, quindi vedete questo tra i numeri, sono due numeri, cento artisti di sette nazioni, i numeri di più del livello internazionale che questo festival sta prendendo. Io penso che non ho paura a dirlo, senza paura di essere smendito, è sicuramente uno dei festival a livello sicuramente cittadino più importante che la città di Pesaro ha e di cui sono veramente orgoglioso, ovviamente è orgoglioso a livello regionale perché è appunto un festival che veramente ha fatto un salto di qualità importante.